salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi primo test di volo del power x questo drone che ha fatto tanto chiacchierare di sé per la sua forma soprattutto perché o piace o non piace divide molto i commenti nel senso a chi piace tantissimo a chi proprio non piace non c'è la vidi mezzo questa estetica o piace o non piace a me piace perché comunque è particolare si differenzia da tutti gli altri droni quindi a me le cose che comunque si differenziano un po dal punto di vista innovativo estetico piacciono quasi sempre perché comunque bisogna sempre andare a creare qualcosa di nuovo e non fossilizzarsi sempre sulle stesse cose e in più le caratteristiche sono abbastanza particolari e uniche quindi power x è qui quindi questo è tutto quello che serve per volare come se fosse un drone normalissimo quindi vedete che mi sono sentito dire sì ma quanta roba da portarsi dietro ma troppo macchinoso cioè secondo me per quello che è in grado di fare anche no nel senso che comunque il controller è il controller il drone è questo è vero abbiamo questo in più nel senso che praticamente come se questo e questo fossero il drone quindi a livello di macchinosità ed ingombro sì un pochino di più però non una roba scandalosa lo si può mettere tranquillamente in uno zaino in una borsa cioè essendo comunque divisi in due parti si può fare questa cosa e sì è vero è un po più complicato perché bisogna montare gli bracci però questo è il prezzo da pagare per avere un drone che in grado di essere anche una fotocamera da tenere in mano e anche per il fatto che lo si può utilizzare sotto l'acqua quindi mettergli una cover tutto questo ovviamente ha portato il fatto di avere i bracci che si possono staccare e via dicendo e comunque secondo me il prezzo da pagare dal punto di vista del montaggio del drone ci sta nel senso non è una roba così particolare o complicata infatti adesso voglio montarlo insieme così vedete quanto tempo ci vuole a montare un drone anche perché calcolate che io la prima volta che lo utilizzo quindi non ho ancora la manualità e se ci metto io tot e tempo figuriamoci dopo un po di utilizzo in cui si prende proprio la manualità sul come montarlo quindi adesso montiamo il power x e poi decolliamo con qualche prova di volo a una cosa appena smesso di piovere o meglio ha smesso di piovere da circa un quarto d'ora infatti vedete che c'è tutta l'erba bagnata e così non c'è la possibilità di provare la cover per l'acqua ci toccherà provarla un'altra volta sperando che viene a piovere non ho mai sperato che venisse a piovere come adesso che c'è questo drone vedrete che non pioverà mai quindi mi toccherà annaffiarlo con l'acqua per fare l'effetto pioggia quindi adesso montiamo questo drone unico e decolliamo per l'acqua per l'acqua Grazie a tutti. Ok, il drone è connesso, vedete che qua ci dà due possibilità una volta connesso, accedere all'applicazione quindi pronti a decollare o accedere sempre all'applicazione ma in modalità waterproof, probabilmente quando ha su questa cover protettiva per la pioggia anche l'applicazione o meno va a modificare qualcosa, va a modificarsi. Quindi accediamo in maniera classica, vedete che già in questa schermata ci dà il resoconto del drone, quindi vedete che è tutto normal, quindi se ci fosse qualche anomalia qua ce l'avrebbe indicato. Quindi vedete che è connesso, quindi tutto è a posto, anzi vado un secondo a formattare la SD perché non so cosa ci sia su quanto spazio ci sia occupato. Ok, formatta SD, ok, allora aspettiamo che è la formatta, perfetto, formatata. Allora, vedete che l'applicazione è semplice ma è molto carina e fatta bene, qua abbiamo tutte le impostazioni, qua passiamo da fotocamera a foto ovviamente, qua abbiamo le impostazioni nelle regolazioni per quello che riguarda la fotocamera, quindi sia per la parte video che per la parte foto. Quindi possiamo essere su auto o su manuale, quindi avere varie regolazioni, poi qua possiamo andare a scegliere la qualità del video, lasciamo su auto e vediamo come registra i video questo drone. Perché comunque la fotocamera non deve essere per niente male, anche il gimbal tutto fatto in alluminio, cioè veramente ben fatto e ben curato. I materiali del drone dal punto di vista qualitativo secondo me sono più che buoni, allora qua sotto abbiamo tutti i dati classici, poi qua in alto il numero dei satelliti, quindi abbiamo tante possibilità, qua vedete che abbiamo E-Mode che poi sarebbe questo tasto che c'è qua che andandolo a selezionare, vedete che se lo sposto qua diventa N-Mode, se lo sposto diventa P-Mode. E a questo punto disabilita anche i sensori anteriori perché diciamo è la versione quella più sportiva, mentre nelle altre due versioni i sensori sono attivati, sia in quella diciamo lenta per riprese cinematografiche o quella via di mezzo, i sensori sono attivi. Quindi a questo punto direi che possiamo decolare, no, voglio farvi vedere le funzioni che ha, o meglio, le funzioni, chiamiamole così, le funzioni di pilotaggio automatico, vedete c'è la Normal Mode, l'High Track, il punto di interesse, quindi fa un circolo sul punto di interesse, Time Lapse e Quick Shot. Il Quick Shot dovrebbe essere, ce ne vediamo, ah ok, non ce li fa vedere perché è la funzione, diciamo, abilitata dai 4 metri d'altezza in su, quindi ovviamente qua siamo a terra, non ce lo fa vedere. E' la stessa cosa ai track, queste funzioni ovviamente bisogna essere in decollo. Poi direi che possiamo decollare, io direi che sì, che possiamo decollare, qua ovviamente andiamo ad accedere a foto e video della fotocamera. E un'altra cosa interessante che ha, che il video registrato dal drone registra anche l'audio, o meglio, lo smartphone registra l'audio, se siamo a una distanza mi sembra di circa una ventina di metri, se non sbaglio, lo smartphone registra l'audio e l'applicazione stessa sincronizza il video che viene registrato anche nello smartphone con l'audio che andiamo a registrare. Quindi avremo un video in cui si sente l'audio, ma le riprese sono fatte dal drone. A questo punto possiamo andare a decollare, sia tirando gli stick verso l'esterno, che è il classico modo di decollare per quasi tutti i droni del giorno d'oggi. Andiamo a spegnere il drone, o fare un decollo automatico, quindi basterà tirare lo switch verso destra e il drone decolla. Ok, siamo decollati, allora facciamo un giretto di perlustrazione, anzi facciamo partire anche la registrazione del video. Vedete che il drone è nella modalità E, è molto lento, questa è la velocità massima, in modalità E il drone è molto molto lento appunto per fare riprese video, se invece lo andiamo a mettere in modalità N, che è questa, che comunque ha i sensori attivi in questa modalità, vedete che già il drone cambia completamente il modo di volare, ed è bellissimo, ragazzi vola benissimo. Adesso lo riportiamo qua un attimo, che gli diamo un'occhiata da vicino, vieni bello, che proviamo anche i sensori anticollisione, anticollisione, subito contro di me, ok, vedete che il drone suona, vedete qua la distanza, 3 metri, 3 metri, ok, vedete che io adesso tiro avanti lo stick e il drone non si muove, quindi diciamo che il sensore anticollisione sembra che funzioni bene, poi non so quanto sia, diciamo, reattivo, però è vero che, diciamo, la sua reattività è data dalla velocità, al di sopra di una certa velocità è specificato che il sensore fa fatica a lavorare, ma quello un po' per tutti i droni classici, a parte che per lo Skydio 2, quindi facciamo un altro giretto, è a sale velocissimo, non so se state guardando, guardate con che velocità è arrivato a 40 metri, sì, devo dire, veramente entusiasmante, da pilotare è bello, si muove bene, morbido, poi il controller è fatto bene, quindi rende tutto più semplice, perché comunque il controller fa la differenza nel pilotaggio dei droni, cioè il drone deve sì muoversi, ma è anche bello avere un drone che ha un bel controller, e qua abbiamo anche le regolazioni degli esponenziali, se entriamo nelle impostazioni del drone, vedete, fly control setting, possiamo, diciamo, vedete, ci dice se i sensori sono attivi o meno, andare a impostare l'altezza massima, che è il massimo che può andare 500 metri in altezza, possiamo selezionarne anche una inferiore se vogliamo, e anche la distanza limite possiamo impostargliene una o, come è in questo momento, dare una distanza illimitata, cioè data solo dal segnale video, qua sotto vedete che abbiamo control stick e curve, ed è questa una funzione, in questa schermata, vedete, possiamo andare a regolare l'esponenziale, cioè la, diciamo, la sensibilità, la morbidezza che vogliamo dare al nostro drone, nel, diciamo, quando andremo a dare pressione agli stick, in base alla pressione il drone avrà una reazione più o meno aggressiva, in un determinato punto, anche questa è una cosa interessante, ecco, una cosa che non ha, che mi sarebbe piaciuto che avesse, anche il Wi-Fi a 5,8 GHz, perché diventa sicuramente interessante, nelle situazioni in cui c'è tante interferenze, tipo questa, per esempio. Diamo un'occhiata all'overing, che è sempre una cosa interessante, vediamo che overing ha questo drone, beh, direi che l'overing non è male, a parte che mi rileva dei sensori, direi che l'overing non è niente male, poi se calcoliamo che un drone nuovo, quindi di aggiornamenti firmware, miglioreranno sotto tutti gli aspetti questo drone, direi che l'overing non è male, non è a livello di un DJI, di un autelivo, ma non si muove da dove è, sale e scende un pochino, fa un leggero movimento così, ma sta fermo sul posto, quindi direi più che ottimo, anzi proviamo a salire un po' a vedere se l'overing migliora di più ancora, vedete che addirittura con l'altezza lì è ancora più stabile, cioè guardate che overing, perfetto, direi che l'overing è, eh sì, è un 9, non è un 10 ma un 9 tutto, sì, allora, comunque esteticamente a me piace, perché almeno è particolare, quindi facciamo le prove delle tre velocità, lettera E, gas a manetta, la velocità è questa, quindi torniamo indietro, ok, lettera N, cioè la velocità intermedia, gas a manetta, è questo, torniamo indietro, ok, e adesso proviamo lettera P, che dovrebbe essere prestazioni massime, e disabilita anche i sensori anteriori, vediamo, wow, tanta roba, viaggia di brutto, sta facendo un return to home, perché le batterie sono sotto al 12%, quindi lo vado a interrompere, vado a interrompere il return to home, e lo faccio atterrare manualmente, il return to home, e lo proviamo in un altro momento, magari, ok ragazzi, questo era solo un primo volo, per, diciamo, prendere confidenza, per capire come vola questo drone, perché comunque, è proprio il primo volo, cioè, oggi è la prima volta che lo utilizzo, quindi era proprio giusto un voletto, per capire come si comporta, come vola, poi nei prossimi video, lo metteremo un po' più alla frusta, nel senso che proveremo le sue funzioni, e oggi abbiamo visto solo l'overing, e l'abbiamo fatto volare, vi ho fatto vedere un po' l'app, diciamo che secondo me, è fatta bene, interessante, è un pochino diversa da tutte le altre, nei prossimi video, lo testeremo con l'Active Track, magari con i voli automatici, e poi proveremo anche un bel return to home, per vedere la precisione nell'atterraggio, se c'è, se non c'è, non lo so, che comunque, ricordatevi sempre, perché è un drone completamente nuovo, quindi dal punto di vista degli aggiornamenti, voi calcolate che a me è arrivato ieri, ieri ho fatto un aggiornamento firmware, appena l'ho acceso la prima volta, e oggi, ce n'era già un altro, quindi, stanno rilasciando un sacco di aggiornamenti firmware, che quando un prodotto è nuovo, ovviamente, bisogna svilupparlo, anche dal punto di vista firmware, anche l'applicazione stessa riceve un sacco di aggiornamenti, da quando l'ho scaricata, ne ha già ricevuti due, se non sbaglio, quindi fate che l'ho scaricata circa una quindicina di giorni fa, e ha già fatto due aggiornamenti, quindi, bisogna dar tempo anche, diciamo, agli sviluppatori dell'app e del firmware, di sviluppare appunto, i prodotti nuovi, e non subito giudicarli, o dargli subito un voto negativo, se magari qualcosa non va subito bene, poi, se dopo due o tre mesi, quattro mesi, i problemi o i difetti, rimangono ancora gli stessi, allora lì il voto diventerà sicuramente negativo, ma questo per tutti i prodotti elettronici, e non solo per i droni in generale, quando un prodotto poi è completamente nuovo, non è neanche magari un prodotto, una versione 2, che dove si parte già da una versione 1, magari quindi un po' più, magari c'è un po' meno da sviluppare, e si parte già con delle basi, quando si fa dei prodotti completamente nuovi, e soprattutto dei prodotti con caratteristiche, diciamo innovative, come è stato il Mini per le Mavic, perché quindi un drone piccolo, leggero, con tutte queste caratteristiche, e ovviamente DJI ci sta lavorando tanto con i firmware, perché veramente c'è tanto da scoprire, anche per loro, stessa cosa qua, perché comunque è un drone talmente particolare, nella sua concezione, che va sviluppato, e bisogna dare tempo agli sviluppatori di sviluppare, quindi ragazzi, questo era solo un volo con le prime impressioni, a me piace tanto anche esteticamente, il controller tanta roba, bellissimo da pilotare, comode le tre, diciamo, velocità, già sul controller, dove possiamo andare a selezionare, le tre prestazioni del drone, tutte queste cose interessanti, non vedo l'ora di provarlo sotto la pioggia, e vedrete che non pioverà mai adesso, quindi già lo so, quindi lo annaffieremo con la canna dell'acqua, in quel caso, per vedere come si comporta, e poi sicuramente lo porteremo al lago, lo faremo atterrare nel lago, con i suoi galleggiadroni, quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale, il primo volo, le prime impressioni, diciamo, la prima infarinatura, di quello che è il PowerX, questo drone, particolare, un po' futuristico, avveneristico, sicuramente unico, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale, 3G Amofferte, se non lo avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube, per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un terzo, una novità, un tutorial, ciao! Grazie!